Sinceramente è una difficoltà che ho avuto per tutto l'arco della stagione, perché lo rimarco per l'ennesima volta, sono in tanti quelli che avrebbero meritato anche più spazio, che però purtroppo o per un motivo o per l'altro sono sempre... qualcuno è stato penalizzato, anche se sul campo durante la settimana aveva fatto bene. E domani è chiaro che è l'ultima partita, la vogliamo giocare al massimo delle nostre forze, vogliamo onorare il campionato, vogliamo festeggiare insieme ai nostri tifosi la salvezza e quindi vogliamo fare una partita seria. Abbiamo avuto delle situazioni a cui non ero assolutamente abituato a dover gestire ed è stato... è chiaro che ho commesso tantissimi errori in quel periodo, perché magari non sono neanche riuscito a isolare la squadra dalle problematiche. Era un momento in cui eravamo anche vicinissimi al mercato di gennaio e quindi potete immaginare quale potevano essere anche le idee o i pensieri, anche dei calciatori, ma di ognuno di noi, perché a un certo punto non sapevamo nemmeno se finivamo il campionato. E quindi in tutte quelle difficoltà là penso di essere maturato perché ho affrontato delle difficoltà a cui non ero abituato ad affrontare. Io insieme ai miei calciatori, insieme a Fabio Gatta, li ripeto, Marco Volponi, Carlo Musa, tutti quelli che ci sono stati in quei momenti, e ai miei calciatori, che però penso che da quelle difficoltà siamo migliorati tutti quanti. Allora il dubbio in porta ce n'ho. Giacoponi penso che partirà proprio dal primo minuto. Penso che giocherà Viero dal primo minuto. E poi il resto sono tanti ballottaggi, anche in relazione ai pensieri che ho prima esternato. Era, secondo me, una cosa scontata, perché è la storia che dice questo. L'anno scorso in questo girone si salvarono con 38. Quest'anno arriveranno a 39, quindi con 40 saresti stato salvo. E più il livello è alto e più il livello è equilibrato, è chiaramente che poi è difficilissimo. Addirittura due giornate fa pensavamo a 42 di poter entrare ancora nei play-out, ma sarebbe stata l'eccezione che avrebbe confermato la regola. Ogni girone a 40 solitamente sei salvo. Quindi quello che ho detto io era un'ovvietà.